Raga guardatevi tutto il video perché ho trovato il mondo, a 100 like vi porto un box da 50, cioè raga vi porto 50 bustini in un unico video, raga 100 like Buongiorno a tutti raga, io sono Stickets per chi ancora non mi conoscesse e oggi raga siamo qua che spacchettiamo 20 pacchetti di Euro 2020 Preview Ritorniamo con questo spacchettamento, anche perché lo sto facendo veramente spesso ultimamente, ma perché raga voglio finire la raccolta più velocemente possibile Quindi raga oggi vi porto 20 pacchetti, prima di cominciare a spacchettare raga vi ricordo di lasciare un bel like e supporto e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Raga attivate anche la campanellina per essere i primi a commentare quando riesco ai miei video, perché a me fa veramente piacere quando vedo scritto primo così no? Vi ricordo anche raga l'hashtag salutami se volete essere salutati nel prossimo video, raga se vi va seguitemi anche su Instagram perché anche lì spacchetto un pochino raga sulle mie storie Raga detto questo incominciamo subito a spacchettare Primo pacchetto raga, sperando di trovare ancora un Cristiano Ronaldo, un altro Mbappé Allora abbiamo Deleini che avevano già trovato, poi abbiamo Bezzo-Belgio, Malen che avevano già trovato, Paul Lopez il portiere da Roma E Kevin Bamboo che si faccia in un campionato estremamente buono, prima che finisse ovviamente col Wolfsburg Pacchetto successivo, vediamo chi troviamo Abbiamo un Cristiano Ronaldo di spalle, anche se è solo dell'esultanza Poi abbiamo Denayer, raga molto bene Paul Lavier, Pogba che avevano già trovato Mettiamo come sempre qua i nostri top player Pogba che avevano Carrasco e mezza Italia, raga Pacchetto dopo, dobbiamo essere molto rapidi perché sono 20 pacchetti, raga Abbiamo Lockyer Martin Deron Kauko Lo scudettino del Gales che già avevo E Nordfeldt Pacchetto dopo Vediamo, vediamo chi troviamo, vediamo chi troviamo Abbiamo Embolo Il portiere del Kairi ex Roma Olsen L'ultima volta raga che ho trovato Piato, dopo c'è stato Cristiano Ronaldo Abbiamo Christophe e non è Ronaldo, è Svensson Pacchetto dopo Pacchetto dopo, vediamo Abbiamo Rui Patricio del Portogallo Jansson Fabian Ruiz del Napoli che già avevo Moreno che già avevo E Thiago Alcantra che anche questo dovrei già averlo Pacchetto dopo Vediamo chi troviamo Abbiamo Pasaric del Croazia e dell'Atalanta Poi Jonathan Ozdov Pizzi E Knudsen Andiamo dopo che abbiamo Abbiamo Stefan De Vrij dell'Inter che già avevo Facciamo una piccola girata che è Raga, anche Kylian Bappé l'abbiamo trovato doppio Kylian Bappé raga, eccolo qua Grande Kylian, veramente Andiamo mettercelo qua Poi un'altra dell'Inghilterra che è Batland Che mi mancava il portiere questo qua Poi abbiamo Lunin E Mati De Ligt Raga, due Golden Boy nello stesso pacchetto Due, come l'altra volta raga Abbiamo trovato tutte e due nello stesso spacchettamento Questi due giocatori E oggi ancora insieme raga Ma nello stesso pacchetto Veramente, veramente ottimo Andiamo col pacchetto dopo raga Vediamo chi troviamo Abbiamo Karaman Joao Cancelo, ottimo Van de Beek che ho già trovato Wijnaldum anche questo ho già trovato E Yankton Raga, tutti i doppi li sto trovando eh Vediamo chi troviamo E abbiamo Mezza squadra Del Dell'Inghilterra Ziuba Weissanen Raibus E Joronen Il portiere del Brescia Andiamo col prossimo pack Abbiamo Julian Brandt De Brucia Dortmund Raga, quelle girate Sono quelle che mi fanno più paura In questo caso abbiamo Zluga Non proprio benissimo Gattier Joe Gomez E l'ultima è Della Russia Bakaev Andiamo col prossimo pack Vedendo chi troviamo Abbiamo E abbiamo E abbiamo Lloris Della Francia Sissoko Umtiti Tutti da Francia Hojeberg E Antoine Griezmann Doppio anche Griezmann Amo trovare doppi questi giocatori Più ne ho E miglio è Pacchetto dopo Pacchetto dopo E pacchetto dopo Abbiamo Cheryshev Mezzo logo Di Euro 2020 Poi abbiamo Stones Miranchuk Ed Endoker Andiamo col prossimo Pack Vediamo chi troviamo Vediamo chi troviamo E abbiamo Mezza esultanza Dell'Austria Tielemann Kevin Stroppan Del Marsiglia Ex Roma Badei Della Fiorentina E Selic Che gioca nel Lille E abbiamo Ragazzi abbiamo Abbiamo trovato un sacco Di giocatori francesi Sto giro Abbiamo Raffael Varane Bizo Sandrino Tonali Che è doppio Anche questo Ottimo spacchettamento Ragazzi questo Meso Mont E Sidrociuk Pacchetto dopo Vediamo chi troviamo Abbiamo Uh Questo qua ragazzi È tripla Questo codice qua Questo QR code Gonzalo Guedes Fabianski Bryant Leno E il Galletto Melotti Che è anche questo È triplo Andiamo col pack dopo Ragazzi ma la vera domanda È perché ho messo Robin Olsen Tra i migliori giocatori Ma perché ho messo Olsen Ma perché Vabbè ormai lo lascio Abbiamo L'altra mezza squadra D'Inghilterra Che avevamo appena trovato Mamma mia che nomi Raga Fonafalo Klosterman Granquist E lo scudettino Della Croazia Molto molto bello Che mi mancava Anzi guarda Lo metto qua Lo scudettino croato Che mi mancava Ragazzi non ci mancano Tanti pacchetti Abbiamo Lorenz Poi mezza squadra Da Danimarca Mezza esultanza Della Svezia Mezza esultanza Della Italia E raga Anche Joao Felix Triplo anche Joao Felix Raga Triplo Joao Felix Che è la prima figura Mai a Portogallo Per il bomber Raga ma cosa abbiamo trovato oggi Quanti top player abbiamo trovato Ultimi due pacchetti Non mi mirarei Se non trovassi Tipo Sancho O Cristiano Ronaldo O chissà chi Abbiamo Forsberg Timo Werner Molto bene Grande Timo Che ho appena trovato Ed è doppio Faizanen Raitala E Schaub Ultimo pacchetto Raga per trovare Un altro top Top player Vediamo Chi troviamo Uh Questo già ce l'avevo Abbiamo Un logo dell'Euro 2020 Granland Simaski Blazikowski Il croato Barisic Raga con lo spacchettamento È tutto Io direi raga Ora di passare Direttamente Ai saluti Raga con i giocatori Del futuro E soprattutto E spero Sandro Tonali Sia veramente Un vero top player Per il futuro Del nostro nazionale Voglio salutare Antonietta Vincitorio Calogiro Mario 2020 Salvo Trattino Basso SL16 Vince J Vincenzo Lamberti Giovanni Pincelli Lucas Umanario Madda Gamer Mattia E Federico Legends Raga se vi è piaciuto Questo genere di video Vi chiedo di lasciare Un bel like Supporto E iscrivvi al canale Se ancora non l'avete fatto E raga se questo video Raggiunge i 100 like Io raga vi giuro Che prendo un box E lo spacchetto tutto In un unico video Quindi 50 pacchetti Raga ora vi lascio Al prossimo video Ciao a tutti